Lui è il signor Pene Pasqualetto, un saluto caro... Lo conosco, lo conosco... Lo conosco, caro maestro... Allora... Bellissimo, non ho parole, sei un mozzo... Sono salutati, qualcuno... Ma te ringrazio, veramente no... Io veramente non... Momenti con momenti maestro, momenti con momenti... Sei un mostro... Guarda che roba so, neanche vero so, neanche vero... È un'opera omnia... Non meritavo tanto maestro... E se non ci fosse stato sagro, questa cosa non sarebbe accaduta... E la firma... Bellissimo... Raffaello, uno, due, tre... Un applauso al maestro Pasqualetto... Vai... Guarda... Lui... È... È conosciuto... So pare... So pare... E se so pare... Pare... E' il fiore... E' il fiore che continua la firma... Sì... No, lui... Quello che io so che non dice... Cioè non mi è piaciuto questo, vorrei toglierlo... Sai la giacca... Quella è la giacca... Quella è quella che ti piace di più... Qual è? Quella è la rigata... Quella è l'ultima che ho comprato... L'ultima che ho comprato... Lasciamo a pariato la crisi... Vediamo... ... Prego... Ave childale vídeo... Grazie.